belli e brutti come state brutti come siete belli come siete brutti come state oggi siamo in svizzera francese che è un posto magnifico magnifico e vi faccio un po vedere come questa parte della svizzera che veramente molto molto bella bene venite con me grazie a tutti 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 grazie a tutti